Ciao, un saluto da Marco Giali, due volte campione del mondo, ai lettori di Panorama Sport, è un piacere essere qua. Siamo qua al Mugello, splendida giornata, per due giorni dei Power Days di Michelin, dove tanti appassionati vengono in pista a provare i nuovi prodotti della gamma. Tornato quest'anno alle corse, dopo cinque anni di inattività nel campionato italiano velocità con Ducati, con coperture Michelin, stiamo avendo pochi risultati, sinceramente al di sotto delle aspettative, mie di tutti, dovute a una serie di situazioni. Tutti ci mettiamo in causa e cercheremo di fare meglio prossimamente. È una stagione sinceramente che, così, con luce e ombre, è alternanza di discreti risultati, soprattutto in prova, dove abbiamo modo di lavorare un po' diversamente, mentre purtroppo in gara ho avuto tanti inconvenienti tecnici che non mi hanno permesso addirittura neanche di partire per la gara stessa. Quindi speriamo migliori la situazione per il proseguo e vi aspetto magari già dalla prossima prova tutti a seguirci in pista.